Ryan Lutz, Kaiosho Alpha Draghi Machine, pronti per raccogliere, negli Stati Uniti. Tecno presenta il loro brand new Short Course Machine, benvenuto e sviluppato. Capricorn presenta G-T Tires per la 1.8 scale G-T Category, Soft, Medium and Super Soft, depending on the conditions. Aiguain Racing in France now stocks ONG switch for X-Ray, by Ultimate Racing Closed End Wheel Nuts. Grazie. 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 Grazie.